Un saluto dal Tg della mobilità, oggi si corre la venticinquesima edizione della Come Race for the Cure, iniziativa a sostegno della ricerca dei tumori al seno. Da inizio giornata sono chiuso al traffico via De Cerchi, via Petroselli, da piazza Bocca della Verità a Vico, Iugario e le strade del percorso comprese tra via San Gregorio e le terme di Caracalla. Dalle 7 chiuse anche via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità, mentre alle 9 chiuderà il traffico l'intero percorso della gara che partirà alle 10 e si muoverà interessando anche l'area di Caracalla. La conclusione e le riaperture sono previste per le 14.30, ma alcune strade resteranno chiuse sino alle 15.30. Previste modifiche ai percorsi di 36 linee di bus e tram. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.